23 nuovi casi di covid-19, un decesso, una quarantena per un nido e questo è il bilancio del coronavirus per la giornata di oggi, 25 marzo, il virus continua a mettere vittime sul territorio. Si tratta di un 71enne di Sulmona, il pasticcere Rigo Gabrielli, che è decenuto questa mattina in seguito alle conseguenze del contagio da covid-19. L'uomo, se conosciuto in città per la pasticceria di Via Trieste, aveva già alcune patologie, suo quadro clinico si è man mano aggravato, fino a quando il suo cuore cessero di battere, un arresto cardiaco in itinere. Da quando si è preso, quando stamane sono scattate le cure ospedaliere per un passaggio nel pretriage del locale Nosocomio, dove è deceduto, non c'era più nulla da fare. Un signore di altri tempi, dolce nel vero senza della parola, sempre affabile e accogliente. Un'altra vittima covid, relativamente giovane, che si aggiunge nell'elenco nero del centro Abruzzo e la settantunesima dall'inizio della pandemia. Intanto, sul fronte del contagio arriva una parziale tregua per Prato-La Peligna. Passato l'effetto screening, oggi si contano solo tre nuovi casi, a fronte di altre sette negativizzazioni, che fanno scendere a 118 il numero degli attuali positivi nella cittadina. Un calo fisiologico, secondo gli esperti, visto che il picco sarebbe stato raggiunto con i 29 positivi di ieri. Il trend, però, deve essere confermato nei prossimi giorni, soprattutto perché si attende l'esito del tampone per tutti i contatti collegati e positivi dello screening. I nuovi casi sono stati quindi accertati 11 a Sulmona, 3 a Prato-La Peligna e Corfinio, 2 a Campo di Giove, 1 ciascuno a Raiano, in Versa degli Abruzzi, Prezza e Pacentro. Nell'elenco compare anche la positiva più giovane di oggi regione, ovvero una bimba di poco più di un anno e mezzo, domiciliato a Sulmona. L'ufficio Igiene e Prevenzione Asla ha attivato quindi la quarantena per una sezione di un asilo nido a Sulmona. Il contagio a catena, relegato in gran parte ai nuclei familiari, sta quindi aprendo diversi fronti di contagio. Intanto ben cinque pazienti hanno stazionato nel vecchio pronto soccorso alla vigilia dell'inaugurazione del triage, una giornata movimentata per l'ospedale di Sulmona. L'accelerata sulla campagna vaccinale sta invece annunciata dal manager Roberto Testa, che va avanti con il potenziamento del centro vaccinale di Sulmona. Intanto sarà online da domani la piattaforma telematica regionale per le manifestazioni di interesse e la vaccinazioni anti-covid, riservata agli over 70 nati tra il 1942 e il 1946. I nati nel 1941 invece potranno aderire alla piattaforma per gli over 80 tuttora attiva.